Ottica Narcisi, sono qui con Mirko, il proprietario. Ciao Mirko, come stai? Tutto bene. Senti, parlaci un attimo della tua location e del tuo lavoro. Allora, la mia location è questa qui che vedete, una parte logicamente. Il mio lavoro si occupa principalmente di fornire occhiali a persone che hanno problemi di vista. Quindi insomma, e non solo, ci occupiamo anche delle lenti a contatto, noi facciamo anche contattologia a tutti i livelli, anche con contattologia per patologie particolari. e niente, ci occupiamo principalmente anche di tutto quello che riguarda la misurazione della vista. Abbiamo degli oculisti con cui collaboriamo e soprattutto siamo specializzati negli occhiali da vista su misura progressivi. Non mi occupo soltanto, diciamo, di occhiali da vista, ma il mio lavoro è anche moda. Quindi insomma, gli occhiali da sole seguono sempre un profilo di moda. Quindi insomma, c'è proprio tutto un filone costruito intorno agli occhiali da sole che oggi come oggi gli occhiali da sole non sono soltanto un ausilio per proteggersi dai raggi ultravioletti del nostro buon sole. Serve anche e soprattutto come look, come tendenza, come poi l'occhiale veste. Senti, c'è una campagna. Mandiamo un messaggio ai giovani. Certo, assolutamente. Sensibilizzare i giovani e soprattutto le persone che vivono la notte di farsi un controllo presso il proprio ottico optometristo, presso i centri ottici optometrici che sono sulla nostra capitale, di fare un controllo perché molte persone non sanno di avere dei problemi visivi pur dicendo di vedere bene. Secondo me si parla molto del mondo della notte e si parla molto male del mondo della notte. Io non sono convinto di questo. Io credo che comunque i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi, facciano veramente il sano divertimento di notte. Quindi non tutti si perdono in alcol, droghe e quant'altro. Allora, senti, io ti ringrazio per questa tua puntualizzazione. Ormai sei un nostro partner di Mondo Notte. Io sono contento perché sono anche tuo amico, questo ci tengo a dirlo, come tutte le persone che sono in Mondo Notte. Però avere dei personaggi come te nel nostro palinsesto è una gratifica perché sfada un attimino anche tutti i discorsi che ci sono dietro questo tipo di mondo. Vi ringrazio. Un saluto agli amici di Mondo Notte. Un saluto agli amici di Mondo Notte. Da Mirko.